Just piano in voice Ok, but I wanna... You sing with me or no? Ok, I wanna a Russian Russian man or Russian girl sing with me the song Please, it's very very famous song Really, you, come on Ok, no, un momento, un momento Come on, what's your name? Ina Ina, listen Amici italiani, now I speak in Italian Sentite che bella questa canzone Questa canzone parla Parla della vita Che, la vita che cos'è? E' quell'attimo, quel momento Che si pone fra il nostro passato E il futuro Tipo l'attimo fuggente Quello, il presente Cioè, adesso, oggi Si chiama vita Noi stiamo vivendo In questa serata meravigliosa Noi stiamo vivendo, e stiamo vivendo una gioia E stiamo vivendo E stiamo vivendo una gioia E stiamo vivendo Mezzo prošli e noi Imi è successiva E stiamo vivendo una gioia E stiamo vivendo un po' E stiamo vivendo una bianca Ci sono vivendo una gioia E stiamo vivendo una gioia E che si chiama una gioia Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie 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 E ora con piano e musica Here we go, everybody to...